Musica Gettiri telespettatori e telespettatrici, ben ritrovati a questo nuovo numero di Dolomiti Turismo che quest'oggi incontrano realtà molto particolari, vicino a noi, a San Pietro di Felletto, in provincia di Treviso ovvero Cantina Le Manzane, parliamo quindi di Prosecco, Cartizze, una storia molto bella di famiglia allora saluto e ringrazio Anna Balbinot, grazie Anna per essere intervenute dunque Anna, una storia di famiglia con un'azienda anche molto particolare, una cantina scavata nella collina nello splendido scenario di San Pietro di Felletto, è un'azienda familiare, ci racconti brevemente la vostra storia l'azienda è appunto un'azienda familiare, è iniziata con mio nonno negli anni 50, quindi con Osvaldo Balbinot ed è iniziata proprio vendendo porta a porta queste damigiane di vino proprio nella zona del Bellunese perché Balbinot è un cognome bellunese esatto, è iniziato con queste damigiane, prima erano 17, con un furgone molto piccolo quindi un lavoro difficile perché si andava da porta a porta ed è iniziato con i privati poi è iniziato a crescere arrivando appunto a prendersi anche un camion più grande che contenesse fino a 100 damigiane e poi circa nell'82 abbiamo iniziato ad avere anche il nostro primo impianto di imbottigliamento sempre nel San Pietro di Felletto e poi nel 92 anche con mio papà nasce finalmente il marchio Le Manzane tutt'ora in azienda c'è tutta la famiglia, quindi mio padre Ernesto, mia mamma Silvana, mio fratello Marco e Dio e anche il nonno che ha 90 anni quest'anno però è ancora presente, non molla, ci tiene appunto questo orgoglio ogni giorno di venire in cantina a vedere anche comunque l'azienda crescere, controllare le vigne certo, controlla le vigne, quindi la cantina con la particolarità scavata nella collina ce la vuoi descrivere insomma? è una cosa molto particolare, quando abbiamo iniziato a costruire la nuova cantina perché inizialmente eravamo nella casa del nonno e abbiamo iniziato a domandarci ma dove la possiamo fare questa cantina perché comunque l'ideale è anche mantenere le temperature e quindi c'era appunto questa collina che abbiamo deciso appunto di scavarci all'interno e abbiamo costruito la nostra cantina e sopra appunto la cantina c'è la collina perché nulla è stato buttato e abbiamo anche appunto costruito e piantato un vigneto sopra e questo è molto importante anche perché riusciamo ad avere delle temperature ottimali quindi arriviamo a massime di 15 gradi anche in estate è molto importante per il stoccaggio del vino e questo anche ci permette anche di un risparmio energetico perché è proprio una vera e propria temperatura naturale Certo, quindi è anche bella da vedere, immagino suggestiva Per gli ospiti fate delle visite guidate poi veniamo ad un appuntamento proprio che è imminente ma le visite guidate sono possibili? Assolutamente, attraverso il nostro sito ufficiale c'è proprio la voce esperienze e chiunque voglia venire a trovarci può scegliere il tipo di esperienza o tour che preferisce quindi dalla semplice degustazione a proprio la visita quindi sia alla cantina, alla pigiatura, al vigneto anche un'esperienza in Land Rover Defender quindi proprio vivendo quelle che sono le ripidità delle colline del Conegliano Valdobbiadene E poi una particolarità che ho accennato Wine Nick Esatto Picnic è normale Wine Nick immaginiamo sia un picnic anche a base di vino no? Assolutamente Ce ne vuoi parlare? Sono due appuntamenti, giusto? Allora, per ora sono due appuntamenti Wine Nick nasce con Giulia Satin appunto una mia amica e abbiamo detto no, non lo chiamiamo picnic ma Wine Nick e come si deduce dal nome? Si tratta di un vero e proprio picnic che andrà anche ad inaugurare la nuova tenuta che abbiamo acquistato che è Le Manzane Hills dove l'idea è di creare un agriturismo ma intanto apriamo appunto le porte del nostro giardino quindi accoglieremo gli ospiti e ogni ospite avrà una sua postazione con una copertina e un cesto ovviamente da picnic sarà possibile degustare i nostri vini di Le Manzane quindi dal Conegliano Valdobbiade nel Prosecco Superiore di OCG perché no ad un Pinot Grigio anche ad un Caberlot quindi un blend tra Cabernet Franc e Merlot e poi ovviamente per quanto riguarda il food ogni volta vogliamo cambiare ok? Quindi creare anche delle esperienze no gastronomiche diverse legate al territorio e non cercando di offrire comunque un'ampia scelta al consumatore cambiare ogni volta intendi cambiare il menu nei due appuntamenti oppure quindi se io vengo al primo appuntamento il secondo non avrò sarà diverso il secondo l'idea è quella di fare una Veneto Edition quindi proprio portare anche il territorio attraverso appunto dei nostri amici sempre che lavorano lì nella zona del San Pietro di Feletto e di Vittorio Veneto ci saranno due appuntamenti quindi il 24 maggio e il primo giugno e l'idea però è di creare un appuntamento al mese o di più vediamo insomma a seconda anche delle disponibilità di poter insomma organizzare tutto questo Poi alle ore 19 quindi mi sembra in questo periodo dove le giornate sono lunghe quindi anche ammirare quelle che sono le vostre cantine e i vostri vigneti Senti quindi questi due appuntamenti dedicati secondo te qual è la previsione voglio dire a un turista, alla gente del posto si può creare anche un'esperienza so che voi andate sempre più verso l'enoturismo quindi non soltanto produttori, vendita ma anche proprio l'enoturismo come turismo esperienziale Esattamente sì, diciamo che questa esperienza nasce anche un po' del desiderio di creare semplicità in questo mondo caotico in cui ormai si vive di tutto quindi allontanarci anche un po' da tutto ciò che è internet, i social ma godersi un momento di relax quindi o in famiglia o con amici o con la propria metà o insomma anche i turisti e venire a vivere proprio quella che è la ruralità delle colline perché è proprio un picnic immerso nelle colline, nel verde di questa tenuta quindi vuole essere proprio una cosa semplice, quotidiana un po' anche per, tra virgolette, staccare la spina e dedicarsi un momento per se stessi Eh certo, senti veniamo a un altro appuntamento, credo molto bello la vendemmia solidale, la vendemmia chiaramente è in autunno parliamo dello scorso anno, cosa è la vendemmia solidale? voglio dire, immagino un'iniziativa di beneficenza, ce ne vuoi parlare Anna? Sì, esattamente è un'iniziativa di beneficenza, mi piace definirlo anche un progetto di charity perché nasce circa 12 anni fa, così per scherzo, con amici di Diego Diego era appunto un compagno di classe di mio fratello, tuttora un nostro amico con delle disabilità e abbiamo deciso appunto di dedicargli una giornata per accogliere fondi alla sua associazione e come si svolge la giornata noi apriamo letteralmente le porte della nostra cantina quindi diamo appunto la possibilità a 500 persone di farci visita quindi durante la giornata c'è la famosa vendemmia solidale quindi proprio si va nel vigneto che abbiamo definito vigneto solidale si vendemmia tutti insieme, l'uva poi raccolta andrà a produrre il prosecco solidale qui parte del ricavato, andrà all'associazione e insieme alle donazioni raccolte durante la giornata perché durante la giornata appunto facciamo da mangiare per 500 persone c'è dell'intrattenimento, abbiamo avuto Moreno Morello poi si può visitare la cantina e si può appunto vedere proprio la fase di pigiatura quindi vivere proprio quello che è il rito della vendemmia insieme a musica dal vivo, a diverse esperienze abbiamo fatto anche l'anno scorso la gara del gin tonic con fratelli Brunello e quindi insomma è un momento di festa in cosa consiste scusami questa gara del gin tonic? perché mi incuriosisce insomma appunto hanno fatto, hanno proposto diversi cocktail con diversi gin appunto quindi speziati in maniera diversa quello più speziato, quello con delle botaniche particolari poi hanno fatto anche quella dell'americano quindi l'americano sbagliato col prosecco certo e poi c'è stata una votazione voglio dire esatto c'è stata la votazione e comunque cerchiamo sempre di rendere tutto un momento di festa c'è anche dell'intrattenimento per i più piccoli perché giustamente quindi abbiamo avuto i burattini, le truccatrici ogni anno poi scegliamo un'associazione diversa in questi 12 anni siamo arrivati ad evolvere poco più di 110.000 euro e insomma è un progetto che ci piace siamo contenti e desideriamo appunto continuare in questa via 500 persone è il numero chiuso voglio dire è su prenotazione immagino perché sta prendendo piede ogni anno sempre di più è autolimitato, questo è il numero massimo? sì, purtroppo oltre a svuotare letteralmente la cantina e fare sedere tutte le persone prenotiamo anche un gazebo esterno ovviamente perché essendo settembre il caldo si fa sentire e quindi sì, noi mettiamo il limite a 500 persone e quello che è bello è che va sempre sold out e quindi ci rende molto orgogliosi questo molti degli spettatori adesso saranno curiosi le prenotazioni quando è che si apriranno per questa vendemmia solidale 2024? la data sarà l'8 settembre della vendemmia solidale e le prenotazioni le apriamo circa dopo ferragosto in una settimana o due quasi un click day insomma sì, ormai è un appuntamento che chi conosce cerca di prenotarsi subito e quindi speriamo che anche quest'anno andrà così senti Anna, questo fatto della visita alle cantine del vedere addirittura la vendemmia solidale partecipare alla vendemmia è un elemento che caratterizza la vostra azienda anche per far capire quella che è la qualità del prodotto hai detto Conegliano, Valdobbiadene, DOCG ma far vedere proprio la qualità a differenza magari dal prodotto di largo consumo se non addirittura il Prosec che proviene da altri paesi allora nella tradizione familiare andare avanti quindi su questa strada oppure pensare anche di commercializzare perché ci hai parlato di una nuova tenuta ampliare il prodotto verso nuovi mercati oppure rimarrete sempre fedeli a questa linea? allora, penso che rimarremo fedeli abbastanza a questa linea quello che a noi ci piace della nostra azienda è che è familiare quindi chiunque viene a trovarci lo trattiamo proprio in questa maniera molto semplice come fosse un membro della famiglia e quello che ci piace è anche poter far vedere al turista al consumatore o al nostro potenziale cliente tutte le varie fasi perché noi li seguiamo in prima persona quindi anche far ricordare nella mente del consumatore il reale prodotto perché sempre si fa confusione tra Prosecco, DOC, Conegliano, Valdobbiadene e quindi noi ci teniamo particolarmente per quello appunto li portiamo anche in vigneto così si rendono conto anche a piedi cosa vuol dire appunto vendemmiare ecco, io ho citato Prosecco e Cartizze ma avete anche altre produzioni, no? sì, assolutamente ci teniamo molto i vitini autoctoni della zona quella ad esempio il Verdiso, la Bianchetta, il Manzoni Bianco e poi appunto da poco abbiamo anche acquistato degli ettari in più di Pinot Grigio quindi il Pinot Grigio DOC delle Venezze che vediamo appunto che c'è molta anche richiesta di questo tipo di prodotto e poi appunto come ti dicevo, sì, l'idea è di aprire un agriturismo in questa nuova tenuta però sempre qualcosa di semplice dove si vive la quotidianità e poi anche il Prosecco con fondo se non vale errato esatto è giusto definirlo il Prosecco povero? vuol dire perché sembrerebbe Prosecco col fondo sembrerebbe povero lo è oppure no? allora, dipende diciamo che è il primo metodo con cui è nato il Prosecco e ha anche voluto essere un po' un omaggio al lavoro del nonno il nostro in particolare è frutto di una profonda ricerca e abbiamo studiato tre anni per realizzare questo prodotto con diverse tesi che abbiamo fatto assaggiare anche il Vinitaly e i nostri clienti importatori e quello che ne nasce, sì è un prodotto che può sembrare povero ma in realtà ha una straordinaria eleganza ed è molto anche didattico perché appunto avendo i lieviti all'interno si può scegliere se appunto berlo subito limpido o appunto scuotere la bottiglia e berlo già torbido con i suoi lieviti però anche molto didattico perché se all'inizio lo bevi pulito fino alla fine che c'è proprio il fondo ti permette anche di capire quello che è l'effetto dei lieviti all'interno appunto del prodotto allora Anna abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione ma torneremo a parlare di voi perché è una storia familiare e imprenditoriale assolutamente interessante quindi grazie ad Anna Balbinotta a Cantina Le Manzane e allora buon lavoro e a presto grazie Anna grazie mille grazie e a voi tutti grazie per la gentile attenzione e l'appuntamento rinnovato la prossima settimana per un altro numero di Dolomiti Turismo grazie a tutti Grazie a tutti.